Buongiorno a tutti e questo è un buongiorno ufficiale. Benvenuti a questo secondo webinar della serie Open Education per rinnovare la didattica. Io sono Paola Corti, lavoro a METID, il centro che si occupa di Learning Innovation al Politecnico di Milano e con me ci sono Eleonora Pantò del progetto Encore Plus e Ruliana Elisa Raffaghelli dell'Università di Padova e che ci racconterà del progetto Encore. Due nomi molto simili per due progetti diversi che si occupano comunque entrambi di Open Education. Fatemi condividere subito le mie slide che così ci gettiamo subito. Sul tema di oggi che, come sapete tutti, è usare le OIAR. Andiamo oggi a vedere un attimo, un po' più in dettaglio della volta scorsa per chi c'era, che cosa sono le licenze Open, che cosa comporta il diritto d'autore, anzi partiremo da lì, e poi anche come trovare, valutare e attribuire correttamente risorse educative Open. Abbiamo la fortuna di avere questa collaborazione in corso con Open Education Italia ed è per questo che con me ci sono due persone di cui ho grande stima, Eleonora e Ruliana. Questo progetto dei webinar ha anche il sostegno del capitolo italiano di Creative Commons e l'interesse dell'UNESCO, dell'UNESCO Italia, che si occupa appunto di implementare la UNESCO Year Recommendation. Abbiamo il patrocinio di Wikimedia Italia, perché Wikimedia promuove la cultura Open in modo molto ampio, come immagino tutti voi già sappiate, ed è un onore avere anche loro da condividere questo progetto. Personalmente io lo sto vivendo come una grande occasione per cominciare anche un dialogo più aperto con persone che si avvicinano adesso alla Open Education o che se ne occupavano già, ma non avevamo avuto occasione di conoscerci, per cui è un privilegio. Che cosa facciamo oggi insieme? Come vi ho già detto, gli ospiti li ho già presentati. Partiamo subito dall'obiettivo del diritto d'autore. Gettiamoci in questo racconto del perché esiste il diritto d'autore. La cosa che vi lancio come stimolo è questa storia che potete trovare in più in dettaglio anche su Wikipedia, con ulteriori fonti, perché nella pagina Wikipedia che vi ho linkato e che poi troverete nelle slide che verranno condivise su Zenodo con Vicenza Sissibai e vi mandiamo il link insieme a quello della registrazione, subito non appena abbiamo caricato tutto. Di cosa racconta questa storia? C'è stato un evento intorno a metà del XVIII secolo, 1755 per la precisione, in cui Samuel Johnson, che ha scritto A Dictionary of the English Language a partire dal 1747, ha scritto a tale Chesterfield. Chesterfield era il classico mecenate che finanziava opere letterarie o opere artistiche, quindi una persona ambiente che aveva deciso di dedicare una parte della propria ricchezza a sostenere la creatività e la realizzazione di opere di ingegno e creative, che sono poi un po' l'oggetto del diritto d'autore e anche del copyright. E in questo caso quello che era accaduto, ed è per questo che vi cito questa storia, è accaduto che se l'opera è iniziata nel 1747, questa lettera del 1755, significa che Samuel Johnson ha scritto 7-8 anni quasi dopo aver iniziato un dizionario. Immaginatevi il lavoro di un dizionario e quanto grande può essere. Il rapporto tra Samuel Johnson e questo Lord Chesterfield era tale per cui Lord Chesterfield pare essersi impegnato, quando leggerete i dettagli magari vedrete anche voi Lucia e Ongre, pare essersi impegnato a finanziare Samuel Johnson mentre scriveva questo dizionario. E un dizionario è un'opera decisamente ampia, che chiede quindi tanto tempo. Peccato che quello che è accaduto è che Samuel Johnson non ha ricevuto che 10 sterline pare da Lord Chesterfield e questo nel 1947. Significa che per tutti gli anni a seguire ha lavorato senza avere i contributi del mecenate. Dopodiché Lord Chesterfield, anche con una certa eleganza, riconoscendo il valore dell'opera, aveva scritto due lettere in forma anonima, che però hanno sollevato molto l'attenzione sull'importanza dell'opera. Due lettere in forma anonima in cui lodava l'autore e lodava l'opera da lui creata. Quindi in un certo senso a opera conclusa l'ha promossa, le ha fatto pubblicità e neanche evidenziato il valore. Però Samuel Johnson ha scritto lui questa lettera, che è diventata famosa, e vi cito solo la frase che vedete qui, tra virgolette, che mecenate è mio signore, colui che guarda con indifferenza a un uomo che lotta per sopravvivere fra i flutti e quando poi questi ha raggiunto la riva lo imbarazza con la sua ormai inutile offerta di aiuto. Ora, al di là della contemporaneità di questa frase per eventi recenti non particolarmente edificanti, la critica che Samuel Johnson fa a Chesterfield è cosa me ne faccio del tuo aiuto dopo che per otto anni ho dovuto chiedere e questo è ciò che è avvenuto, ospitalità sui divani dei miei amici e un pasto caldo da mangiare almeno una volta al giorno, perché non avevo i contributi su cui contare. Ecco, vi propongo questa visione perché mi interessa iniziare a parlare del diritto d'autore proprio in questo senso. Fino ad allora, ed è per questo che questa lettera è importante, gli autori di opere creative dovevano contare pressoché sempre, a meno che non fossero stati ricchi loro stessi, per questioni ereditarie o di famiglia comunque, dovevano sempre contare sul supporto di un mecenate. Questo aveva diverse influenze. Nel caso di Lord Chesterfield, tra l'altro, se vogliamo, al di là del fatto che non ha contribuito economicamente, non c'era nessun tipo di ingerenza, ma in altri casi, in molti casi, c'era anche un'ingerenza sull'opera stessa, perché chi finanziava voleva dar voce ai propri obiettivi attraverso l'opera degli autori e per cui ne influenzava il risultato con richieste più o meno ingerenti. In questo caso, diciamo, questa lettera rappresenta un po' il momento storico in cui gli autori si sono ripresi in mano la propria libertà di pensiero e anche la propria autonomia nella creazione dell'opera. Dopodiché su questo possiamo fare moltissime considerazioni sui toni di grigio che ci sono tuttora sul tema dell'autonomia degli autori, però adesso cominciamo da qui, insomma. Qual è l'obiettivo del diritto d'autore? Allora, facciamo così, andate su VClub, come la volta scorsa, l'indirizzo è già nella chat, perché Bianca ve l'ha messo, e adesso noi andiamo a far partire VClub. Dovreste poter vedere anche voi attivo il... E vediamo se io riesco anche a non fare troppi pasticci e a condividervi quest'altro. Ho già sbagliato. Voglio provare a condividervi la nuvola così vedete l'altro schermo. Adesso dovreste vedere tutto quello che emerge. Io lo vedo sull'altro schermo. Dunque ho riutilizzo. Lavoro, tutelare, riconoscere, confermare, proteggere un'opera. Aspita, quanti contributi, che bello. Dopo vi farò una screen capture di questa cloud e ve la metto nelle slide. Vedo che tutelare è la parola che la maggioranza di voi sta scrivendo, proteggere, tutelare l'autore, riconoscere. Responsabilità, proprietà, tutelare l'opera di ingegno. Benissimo. Benissimo. Allora, torniamo un attimo di là e andiamo a vedere. Eccoci qua. Allora, qual è l'obiettivo del diritto d'autore? L'obiettivo del diritto d'autore, e si legge anche tra le righe di tutte le frasi e suggerimenti che avete messo voi, l'obiettivo della legge sul diritto d'autore è promuovere il progresso, promuovere il progresso di arte e scienza attraverso la tutela del diritto degli autori e degli inventori di beneficiare dei prodotti della propria inventiva, beneficiare anche economicamente. Ora, come dicevamo anche la volta scorsa, né io, né, penso Eleonora, né Giuliana, abbiamo un profilo da legali, però quando ci si occupa di formazione, di creazione, di risorse educative, che è un po' l'obiettivo dei nostri incontri, è fondamentale anche conoscere qualcosa del diritto d'autore perché poi nessuno costruisce da zero, costruiamo tutti a partire da conoscenze e materiali che sono già stati costruiti da altri, sia che lo facciamo in modo esplicito, sia che lo facciamo riusando un contenuto, sia anche quando ne facciamo una parafrasi in modo corretto e rispettoso di tutte le normative, la storia ci precede, insomma, in tanti modi diversi. Quanto dura il diritto d'autore? Allora, questa mappa che a me piace sempre citare, che trovate poi dalle slide, trovate il percorso per andare a vederla e per ogni immagine trovate sempre nelle slide la citazione così come è richiesto che venga fatta in termini legali. Anche per darvi un po' di esempi diversi, troverete sempre citazioni che magari sono in formati diversi, ma sono tutti leciti e tutti corretti e completi, così che possiate vedere che ci sono dei piccoli spazi di flessibilità e però vedremo anche poi nel dettaglio di questi webinar come fare a citare correttamente le risorse quando riusiamo risorse di altre. In questo caso, in questa slide, io sto riusando una mappa che è la mappa dei termini del copyright presente su Wikimedia Commons e che è stata condivisa con la licenza Creative Commons Attribution 3.0, cioè CC BY. Chi c'era l'altra volta ha già in mente di cosa stiamo parlando. In questo caso è una mappa in cui io sono tenuta, riusandola, a citare la licenza e a citare chi l'ha creata e dove si trova, quindi anche mettendo il link e ho finito. Non devo fare nient'altro, posso anche modificarla. Se avessimo voluto cambiare il colore per renderlo più coerente con i colori della nostra presentazione avremmo potuto farlo legalmente. Cosa vi sto facendo vedere qua? Quanto dura il diritto d'autore? A colpo d'occhio sappiate che il giallo è 50 anni, oltre la vita dell'autore stesso. Il marrone è chiaro, adesso non so come lo vedete voi nella condivisione, perché a volte gli schermi cambiano leggermente i colori. Comunque il marrone è chiaro che anche il colore che c'è in tutta Europa, bene o male, eccetto un'eccezione dove ha una durata un filo più bassa, 50 anni, in tutta Europa è la durata della vita dell'autore, del detenitore del diritto, più 70 anni a seguire. Il nero che vedete nella zona dell'America centrale è la durata della vita più 100 anni e poi ci sono tutta una serie di variabili, eccetto qualche caso in cui è ancora sconosciuta la durata del diritto d'autore o non c'è una normativa in merito. E poi ci sono delle convenzioni internazionali che consentono alle normative del singolo Stato di dialogare tra loro, tra cui per esempio la Convenzione di Berna. Ecco, questo aspetto della durata del diritto d'autore vedete che è in coerenza con l'obiettivo del diritto d'autore stesso, perché se lo scopo è sostenere le opere artistiche e le opere di ingegno, è doveroso tutelare l'autore nel poter vivere delle proprie opere di ingegno e quindi se ci sono dei diritti congiunti a quelli del diritto d'autore per poter guadagnare qualche soldo a partire da un'opera, laddove siano fatte anche a scopo di sostentamento, è corretto che l'autore possa beneficiarne e così poi anche i suoi eredi, perché in qualche modo è l'eredità che lascia un'opera che possa essere riutilizzata. È più facile immaginarsi questo aspetto, pensate per esempio a un'opera artistica, un'opera musicale, le canzoni di De André, le canzoni di Gaber, opere cinematografiche che hanno un diritto d'autore che dura durante la vita dell'autore e poi i diritti commerciali che sono diritti connessi che possono durare anche oltre. Tutto questo per farvi capire che dati questi tempi di durata, se quello di cui stiamo parlando noi sono le risorse educative aperte e le licenze che consentono il riuso, capite che l'attesa, in termini di riuso di queste opere, che una volta terminato il periodo in cui il diritto d'autore è vigente, entrano nel dominio pubblico, quindi chiunque le può riusare senza dover poi pagare diritti per il riuso. Legalmente è consentito il riuso esteso. Ecco, da questo punto di vista se vogliamo poterle riusare prima o se vogliamo concedere ad altri di riusarle prima, dobbiamo dare dei permessi, altrimenti dobbiamo aspettare una quantità di anni veramente ingente. Ci sono diverse normative, non faremo un affondo legale, vi faccio davvero solo qualche cenno, anche perché ribadisco, io non ho un profilo legale, però siccome le risorse educative aperte sono disponibili a livello globale, poi bisogna sapere anche qual è la normativa che fa fede. C'è un terreno comune tra le diverse normative nazionali, però a livello locale il diritto d'autore ha delle specifiche. Ci sono anche delle convenzioni internazionali, come vi dicevo poco fa, che supportano l'integrazione tra diverse normative nazionali e una di queste è la Convenzione di Berna, che è stata firmata da 176 paesi. E già questo indica quanto ci sia la volontà anche di dialogare sul tema, in modo tale da trovare delle vie che consentano il riuso delle risorse attraverso i paesi, anche i riusi a scopo commerciale, anche quando vengono versati i diritti, al di là delle licenze. In Italia la normativa si chiama diritto d'autore, all'estero avete spesso sentito parlare di copyright, poi vediamo anche le differenze proprio macro, ed è la legge 633 del 1941. Ci sono state delle modifiche nel tempo che poi magari vediamo anche più in dettaglio se qualcuno è interessato, e dichiara che sono protetti sia i diritti economici dell'autore sia i diritti morali. Il nome dell'autore va sempre citato, anche se il suo lavoro è di dominio pubblico, e può quindi essere riutilizzato liberamente da chiunque. Questa è una, già questa, ve la cito subito, è una differenza sostanziale rispetto ad altre normative, perché invece per esempio negli Stati Uniti è possibile rilasciare un'opera immediatamente, io Paola Corti creo un'opera negli Stati Uniti, e la posso rilasciare immediatamente nel dominio pubblico, se lo ritengo opportuno. In Italia neanche l'autore può scegliere di rinunciare al diritto morale, quindi diciamo come minimo se pensiamo immediatamente alle licenze siamo già nel si si vai, per chi di voi c'era la volta scorsa, cioè creative commons, ma l'attribution è sempre dovuta, mentre negli Stati Uniti dove vige il copyright e il dominio pubblico è a disposizione dell'autore stesso, è possibile anche già applicare si si zera. Se io uso una risorsa invece creata da un autore che l'ha creata e l'ha come disegno in dominio pubblico negli Stati Uniti, la posso utilizzare senza applicare la si si vai, posso usarla in base alla licenza che è stata correttamente scelta in un altro contesto. In questo slide vi evidenzio, ma proprio il minimo indispensabile per distinguere il diritto d'autore e copyright. Nell'ambito del diritto d'autore, e in questo vi confermo che mi sono fatta aiutare a tempo fa dall'avvocato Deborah De Angelis, che è membro del creative commons chapter in Italia e che si occupa, è un avvocato, quindi decisamente sa meglio di me i dettagli legali, e però appunto è con lei che avevo lavorato per capire meglio la differenza tra diritto d'autore e copyright, perché io stessa altrimenti sarei stata in difficoltà. Qui ci sono proprio i punti chiave, diciamo. Allora, a sinistra avete il diritto d'autore, a destra le normative del copyright. In ambito di diritto d'autore, l'ambito è quello della civil law, cioè è basato su leggi, mentre l'ambito del copyright è basato sulla common law di origine anglosassone e quindi è basato su precedenti giurisprudenziali, cioè su ciò che è stato deciso di causa in causa, di esperienza in esperienza e che ha poi avuto delle ricadute su delle normative. Da noi invece c'è una scelta normativa che poi viene applicata di esperienza in esperienza. Nel nostro caso la tutela è nata dal riconoscimento del contributo dell'autore. Nel caso invece del copyright la tutela è nata dopo la nascita della stampa nel 1455 e poi si è evoluta nel 1710 con lo statuto di Anna, se qualcuno di voi è interessato un po' alla storia, anche questa è una storia interessante, quando è nato il bisogno del diritto di copia da parte dell'editore. Quindi hanno due origini proprio un po' diverse. la prima nasce a tutela del contributo dell'autore, dall'altra parte la nascita è più legata alla distribuzione delle copie dell'opera, quindi il focus è più sull'opera. Dopodiché, tornando a noi, terza riga della tabella, nel nostro caso ci si concentra sulla paternità o maternità dell'opera, anche nel caso in cui vengano ceduti i diritti, la paternità dell'opera rimane all'autore. Quindi parliamo proprio di diritti morali. Se io cedo la mia opera di ingegno a un editore, l'editore avrà i diritti commerciali, ma il riconoscimento della creazione dell'opera continua a rimanere legato al mio nome. Dall'altra parte il copyright è nato come concentrato sull'aspetto economico e quindi è centrato sui diritti patrimoniali e quindi il focus è chi guadagna sull'opera. Tornando a noi, nasce immediatamente il diritto d'autore quando nasce un'opera. Non c'è da registrare niente necessariamente, non funziona in questo caso come i brevetti. Viene creata un'opera e immediatamente per convenzione l'autore è il detentore dei diritti morali dell'opera. Mentre in ambito di copyright è necessario il deposito. Vedete che sono proprio due strutture che poi a volte è anche complesso magari integrare quando poi andiamo a lavorare sulle risorse. Perché parliamo di diritto d'autore se l'argomento sono le Open Educational Resources? Prima di tutto perché era la parte più ostica secondo me o la trattavo all'inizio o dopo due ore di webinar diventava difficile concentrarsi. Quindi così ci siamo diciamo smaltiti la parte un pochino più complicata perché a noi interessano le Open Educational Resources siamo qui per questo e lo scopo è uno scopo di riuso di risorse educative che consenta di non reinventare nulla ma sulla base di diritti e di licenze che lo consentono costruire insieme e condividere insieme conoscenza. Quindi perché parliamo di diritto d'autore? Perché se ripartiamo dalla definizione di Open Educational Resources stiamo parlando di qualunque tipo di risorsa didattica che sia un testo un percorso di apprendimento un piano operativo di lezioni un video un articolo una lettura un testo un quiz un esercizio qualunque tipo di risorsa educativa che sia accessibile in modo gratuito e privo o con limitate restrizioni e in questo limitate ci sono le licenze che sia protetta dal diritto d'autore o dal copyright in altre normative nazionali e che sia associata adesso il permesso di scaricarla modificarla riusarla e condividerla quindi vedete che uno dei punti chiave già qui è il diritto d'autore e il copyright e perché ci è necessario parlare del copyright perché la licenza è un livello che si appoggia sopra il diritto d'autore e sopra il copyright la licenza la licenza creative commons è scritta in modo esplicito riferendosi al diritto d'autore e il copyright e racconta quali sono i termini d'uso che l'autore cioè chi detiene il diritto d'autore sull'opera decide di concedere ad altri quindi l'autore prima di tutto continua a conservare tutti i diritti di utilizzo dell'opera salvo aver scelto per esempio di cederne alcuni ad altri dopodiché sceglie attraverso le licenze di consentire al pubblico di riutilizzare la propria opera con alcuni tipi di limitazioni le licenze sono costruite su tre livelli hanno un livello legale che è la base ed è quella di cui stavo parlando adesso cioè quella che si appoggia proprio al diritto d'autore è scritta in un linguaggio che è coerente con quello delle normative legali è molto dettagliata e è quella è quella norma sulla quale poi l'autore in caso di utilizzi impropri si può rifare per eventuali cause legali poi c'è un livello che è invece dedicato alla lettura umana a colpo d'occhio letteralmente perché sono i geeks cioè i simboli che noi abbiamo visto l'altra volta che oggi rivediamo le rivedremo un po' tutte le volte perché ci serve per chi di voi è nuovo è importante riguardarli più volte e familiarizzare pian piano però se avete già in mente i simboli ma li vedete qui nell'immagine nel livello in mezzo sono dei simboli molto essenziali che servono a riassumere il codice legale ma di per sé non sono sufficienti senza il codice legale stesso ed è per questo che ogni volta che si mette l'immagine delle licenze ci deve essere su questa immagine il link se nel caso io non abbia l'immagine a disposizione non è un problema è fondamentale invece che ci sia il link alla licenza creative commons che io sto usando mettere solo l'immagine non è mai sufficiente c'è anche poi un altro livello che è il livello machine readable ed è un sommario leggibile dai motori di ricerca leggibile da tutti gli strumenti di lettura digitale che ha in sé un sommario delle libertà di azione che sono garantite da ciascuna licenza e questo è quello che rende poi le risorse educative aperte ricercabili attraverso i motori di ricerca stessi non so quanti di voi abbiano provato a filtrare le ricerche di google attraverso attraverso proprio il filtro degli strumenti che consente di scegliere quale licenza d'uso tra quelle creative commons disponibili ci sono in modo tale da per esempio cercare solo risorse che hanno un certo tipo di licenza è una ricerca interessante da fare per vedere anche quali risultati vengono restituiti facciamo un rapido ripasso di quali sono le licenze creative commons di base vi faccio vedere le opzioni che possiamo scegliere noi manca in questa immagine la CC0 che è il pubblico dominio perché qui volevo sottolineare proprio il fatto che da noi questi webinar sono in Italia da noi vige il diritto d'autore noi non abbiamo la possibilità di scegliere la CC0 perché l'attribution invece è dovuta sempre quindi partiamo da CC BY il simbolo del BY è l'omino come vedete ma è anche scritto sotto e questa è attribuzione bisogna sempre citare l'autore della risorsa quando la si riutilizza cioè l'autore di questa risorsa si ha associato questa risorsa alla licenza CC BY ci sta dicendo non contattatemi se volete riusarla ve lo sto già dicendo con questo simbolo e con il link adesso associato vi sto lasciando la possibilità di riusare la mia risorsa basta che citiate il mio nome la licenza che segue CC BY NC in aggiunta oltre all'attribuzione richiede il riuso per scopi non commerciali quindi io non posso riutilizzare una risorsa che trovo in rete e che ha questo simbolo se l'attività per cui la riuso è a scopo di lucro se io quindi la uso per fare un corso di formazione con i miei studenti nell'ambito della scuola pubblica o di un'università pubblica sto facendo una presentazione in una conference non a scopo di lucro posso assolutamente riutilizzare le risorse CC BY NC perché non c'è una forma di riutilizzo commerciale se voglio creare una maglietta con una fotografia che è rilacciata con licenza CC BY NC non lo posso fare se voglio venderla se voglio usarla solo io posso o se voglio regalarla ai miei amici posso assolutamente farlo giusto per darvi degli esempi vi faccio questo esempio delle magliette perché è una delle risorse che vi inviterò poi a andare a vedere il Rijksmuseum di Amsterdam se se non lo conoscete poi magari vi vi recupero un link mentre parlano le mie colleghe ve lo mando perché nel loro caso per esempio tutte le risorse del museo sono state rilasciate con licenze che ne consentono l'uso anche a scopi commerciali e c'è chi sta creando delle attività e anche delle start up a partire da questo la licenza successiva è CC BY NCSA in questo caso la risorsa è una risorsa che va che può essere riusata è necessario citare la fonte non ne è consentito l'uso commerciale ma va anche riutilizzata in un ambito che abbia la stessa licenza quindi io riuso una risorsa di Eleonora e una di Juliana se loro hanno rilasciato le loro risorse con questa licenza anche la risorsa che creo io dovrà avere la stessa licenza se io le sto usando senza modificarle siamo in un caso diverso che vedremo meglio nel momento in cui scendiamo più nel dettaglio ma in questa presentazione per esempio voi troverete che la mia scelta è di rilasciare la presentazione intera con licenza CC BY perché voglio che la possiate riusare nel più ampio modo possibile ma ho dichiarato nella prima slide e magari ci torno anche un attimo se riesco così lo vedete subito in alto ecco qua in basso a destra vedete eccetto dove altrimenti specificato questa presentazione è rilasciata con licenza CC BY e qui sopra c'è il link alla licenza stessa ok questo è proprio un esempio d'uso io però qui dentro ho utilizzato anche risorse non mie per farvele vedere che hanno licenze diverse di conseguenza siccome non le ho assolutamente modificato e in questo caso stiamo parlando di un riuso così com'è non ho modificato ho citato la licenza esatta scelta dagli autori e quella slide è specificatamente con la licenza più restrittiva degli autori di quella risorsa che io ho citato poi ve lo faccio portare a seguire quindi c'è un uso diverso che io posso fare delle risorse altrui se io le voglio modificare e se invece le uso così come sono e le integro in quella che poi si chiama collezione non è un remix cioè non ho rimescolato perché non ho adattato quella risorsa che ho riusato ne ho usato una parte ma così com'è questo consente di giocare un pochino con le licenze e queste sono le difficoltà pratiche che poi si affrontano quando si vogliono usare le OER perché bisogna sapere cosa si può fare passo successivo CC BY SA allora CC BY SA non ho l'immagine del non commercial in questo caso io posso usare la risorsa che trovo devo citarne la fonte e la devo condividere allo stesso modo quindi se la modifico l'opera che io modifico a partire da questa immagine o da queste slide che ho trovato e che qualcuno ha condiviso con questa licenza dovrà a sua volta essere condivisa con questa licenza le ultime due licenze che vi faccio vedere non sono licenze open sono licenze creative commons funzionano molto bene con l'open access quindi con la pubblicazione di articoli che io voglio rilasciare in modalità open voglio consentirne il riuso voglio che vengano ridistribuiti non a scopo commerciale o anche a scopo eventualmente commerciale se la clausola non commercial non è presente ma non sto consentendo modifiche di queste opere ora su queste clausole nel mondo dell'open education c'è un grandissimo dibattito che vi invito a prendere in considerazione con un approccio molto aperto e vi condivido su questo anche una mia stessa debolezza nel tempo poi mi piacerebbe sentire magari anche il parere di Eleonora e di Juliana su questo perché essendo così propensa all'uso alla promozione all'advocacy sulla open education queste licenze che non sono open che ostacolano la modifica che invece io vedo come un grande valore aggiunto quando si sta parlando di risorse educative non mi piacevano non mi piacevano però ci sono state delle occasioni molto concrete e molto pratiche in cui intanto apprezzo il fatto che esistano e nella mia visione di open che evolve nel tempo la tendenza anche intenzionale proprio la volontà è quella di essere sempre più inclusivi anche di casi specifici e di difficoltà situate in contesti specifici dove una licenza più restrittiva può essere più opportuna di altre nel nostro caso per esempio esempio molto concreto abbiamo un MOOC sulla nostra piattaforma Polimia Open Knowledge che vi invito a esplorare perché condividiamo molti MOOC anche con licenza open nonostante anche lì open nei MOOC non sempre corrisponde a una licenza open corrisponde al fatto che siano disponibili in rete gratuitamente se chi c'era l'altra volta si ricorda che noi qui stiamo distinguendo un po' tra open come free e open come free più permessi quindi gratis va bene è un passo ma in realtà open nel senso in cui vogliamo intenderlo è gratis con dei permessi di riuso ecco la licenza non derivative nel nostro caso sulla nostra piattaforma Polimia Open Knowledge è presente per esempio in un MOOC che si chiama Embracing Diversity e che come tema tratta appunto le diversità le diversità di genere le diversità tra i generi la pluralità delle identità e in questo e in questo caso la scelta degli autori è stata quella di utilizzare una licenza non derivative e le motivazioni sono quelle del proteggere variazioni del contenuto che possano cambiare un messaggio che tocca delle sensibilità molto forti immaginatevi aggiungere non di fronte a un'espressione in un testo che tratta di tematiche sensibili come le diversità e le diversità di genere e le diversità di identità e niente questa è giusto per darvi un'idea di un'area di grigio dove ha senso valutare qual è la licenza se la licenza non derivative è una licenza più opportuna di altre più aperte resta aperto il dibattito dall'altra parte sto cercando di essere il più oggettiva possibile nel caso non lo sia fatemelo notare il dibattito sul fatto che comunque quando carico una risorsa in rete esistono tutti i tool di cui siete a conoscenza o che potete aver esplorato o potete averne sentito parlare che comunque consentono modifica anche di risorse che non hanno nemmeno una licenza creative commons e sono completamente protette da copyright quindi lo scegliere una licenza di per sé non protegge da abusi sull'uso di una risorsa ma esprime una intenzione dell'autore nel consentire ad altri un riutilizzo della risorsa che sta rendendo disponibile in base a certi a certe deroghe rispetto alla versione standard di partenza che è tutti i diritti riservati in pratica se io associo una licenza a una risorsa sto dicendo che alcuni diritti rimangono riservati altri invece non sono più riservati uno dei vantaggi che dicevamo anche già l'altra volta è che se io ho questo approccio e la mia intenzione è condividere in modo aperto non avrò la necessità di essere contattato ogni volta che qualcuno vuole riutilizzare una mia opera perché non devo dare dei permessi ad hoc quando invece sarà necessario contattarmi comunque immaginatevi il caso CC BY NC cioè io ho creato una risorsa che ho deciso di rilasciare con la licenza CC BY NC quindi voglio che sia riutilizzabile apertamente modificabile ricondivisibile anche con altre licenze ma non ne sto consentendo l'uso commerciale Bianca decide di riutilizzarla però in realtà la vuole utilizzare in un corso in cui riceve un compenso per la sua docenza oltre al lavoro che fa di base riceve un compenso per la sua docenza la licenza non glielo consentirebbe però Bianca può contattarmi e può dirmi sto facendo questo corso in questo contesto dove non potrei insegnare per esempio se non attraverso un contratto e per cui deve essere previsto un compenso oppure sto facendo questo corso per un compenso sei disponibile a darmi comunque il permesso di riusare la risorsa e io posso comunque scegliere di darlo il permesso ad hoc se però non associassi la licenza qualunque riuso compresi quelli non commercial avrebbero necessità di chiedermi prima il permesso per rispondere alle restrizioni legali quindi la licenza rende esplicite delle libertà che l'autore sta dando agli utenti ecco come abbiamo già detto poco fa come vedete questo è uno schema che avete già visto la volta scorsa e qui vedete che ritorna anche il pubblico dominio tutte le risorse che voi trovate perché se ci focalizziamo sul riuso non la sto creando io quindi io io non posso associare il dominio pubblico ma se trovo una risorsa che è nel dominio pubblico allora la posso riusare ecco è il massimo livello di libertà in quel caso non devo nemmeno citare la fonte noi per scelta tendenzialmente anche nelle immagini che sono condivise con dominio pubblico arrivo forse c'è una domanda anche nelle domande che sono condivise con dominio pubblico la nostra scelta è solitamente di citare la fonte per riconoscimento e per prassi dopodiché però non siamo tenuti a farlo noi intendo method quando creiamo anche i MOOC e riusiamo immagini rilasciate in pubblico dominio nei video che creiamo noi c'è una domanda che forse interesse certo allora il contesto educativo se retribuito è un ambito commerciale dipende dai singoli contratti nel pubblico nel pubblico se io riuso delle risorse mentre sto facendo delle docenze che sono aperte a tutti in un'università pubblica vi direi che potete assolutamente considerarlo non commerciale se io come docente di un'università pubblica invece vado in un'azienda privata a fare al di là del mio contratto della mia attività un'attività retribuita in un altro contesto allora in quel caso se ho un contratto per cui quella docenza è a pagamento non è più un uso non commerciale è un uso che non è più nell'ambito della formazione pubblica per cui in quel caso c'è un reddito che parte da questo un altro esempio è quello che vi facevo della start up se io sto riusando delle risorse che sono state magari anche create per scopi educational delle slide o delle immagini particolarmente rilevanti uno schema che mi piace una scritta a me per esempio la scritta open gratis più i permessi è una scritta open più di gratis maggiore di gratis e open gratis più permessi a me è una scritta che piace se me la metto sulla maglietta essendo stata condivisa da chi l'ha creata inizialmente in inglese che è David Wiley negli Stati Uniti se lui non l'avesse condivisa con Sissi By l'avesse condivisa con Sissi By e io poi ne faccio un derivative traducendola in italiano e quindi non sono tenuta a modificare ad utilizzare la stessa licenza perché lui l'ha messa in Sissi By benissimo se la uso però per metterla sulla maglietta e poi vendo la maglietta se lui avesse scelto l'ensì io non la potrei vendere la maglietta posso metterla sulla mia maglietta posso creare delle magliette pago la maglietta e questo pagamento della maglietta chi crea la maglietta non è considerato diciamo un riuso commerciale della risorsa in sé e su questo ci sono casistiche di sentenze di tribunale per darvi un'idea perché immaginatevi quando stampo le copie di un libro c'è un pagamento per la parte di carta a chi mi stampa il libro anche se il libro è un libro rilasciato con licenza open e però è non commercial ma il pagamento della stampa su carta non va a pagare il sapere che c'è nella copia va a pagare un servizio che è carta più inchiostro più elettricità più stampante e quindi la sentenza è stata a favore del riuso che poi in realtà è un riuso effettivamente non commerciale ecco questo per darvi un po' l'idea non so se ho risposto esatto questo aspetto è da tenere in considerazione certo per tutelarvi banalmente perché bisogna esercitarsi e anche da noi tantissime volte abbiamo un sacco di casi concreti appunto avendo l'intenzione di rilasciare i nostri MOOC ovunque possibile con licenza open abbiamo tantissimi casi in cui abbiamo delle difficoltà nel capire se e come possiamo riutilizzare le risorse che ci indicano i docenti o che troviamo noi il nostro sforzo è man mano che ci alleniamo cercare alternative che ci semplifichino la vita inizialmente e quindi non andare a metterci in difficoltà da soli con licenze più complesse dove questo non è possibile cerchiamo un'alternativa che sia come contenuto sufficientemente vicina a quella che era la proposta perfetta ma nel mondo delle risorse open dove neanche questo è possibile studiamo caso per caso e cerchiamo di capire come fare abbiamo provato più di una volta a chiedere un permesso esplicito di riuso in caso di dubbio abbiamo contattato gli autori e abbiamo chiesto il permesso di riuso se scari con la risorsa da un sito che è riuscita in pubblico dominio no la risposta è molto semplice no o è dichiarato esplicitamente che la risorsa è nel pubblico dominio ma il fatto che una risorsa sia caricata su un sito web e sia scaricabile non dice che è in pubblico dominio non è neanche si si baia in cnd se non è esplicitamente scritto quindi in teoria voi visto che il sito ve lo rende fattibile la potete scaricare ma in teoria non siete neanche autorizzati a spostarla dal computer a un altro device la dovreste riscaricare sull'altro device perché non vi è detto da nessuna parte che non sia scritto esplicitamente che avete la possibilità di scaricare la risorsa e usarla su più di un device e questo è quello che mi viene da dirvi da praticante ricordatevi che non sono un legale quello che vi sto dicendo poi come dire in nessun modo sta limitando poi la vostra autonomia nel fare le vostre scelte su come usare e riusare le risorse però diciamo chi pian piano questa cultura sta aumentando chi ha già un po' di background anche nel web di utilizzo delle licenze vedrete che ve lo esplicita vedrete che mette dopo vediamo qualche esempio ve lo faccio vedere anche io vi esplicita anche se potete considerare il contenuto del sito non solo delle risorse caricate sul sito come riusabile con un certo tipo di licenza qualche esempio ce l'ho e ve lo faccio vedere dopo però appunto il fatto che una risorsa sia scaricabile non è garanzia che sia riusabile è una risorsa che avete il permesso di scaricare che cosa si può fare con le Open Educational Resources anche questo velocissimi perché poi scendiamo un po' nel dettaglio e possiamo basarci diciamo su queste 5 R's le 5 R che nascono dalle 5 parole in inglese perché piacciono molto gli acronimi e anche le modalità che aiutano a memorizzare sono spesso utilizzate nel mondo anglosassone noi ce le teniamo strette perché aiutano un po' anche noi a ricordare poi le trovate ovunque per cui a me preme citarvi uso le parole inglesi anche qui tutte le volte che poi in rete trovate tantissimi materiali che siano ancora in maniera dominante in inglese questo non toglie nulla alla necessità di localizzare progressivamente sempre di più le risorse soprattutto quelle open nelle lingue locali sia per preservare le culture locali sia per preservare la lingua e i vocabolari quindi il fatto che io le riusi non significa che sono una promotrice dell'uso dell'inglese a prescindere allora le 5 R's la prima è retain è possibile tenere una copia di una risorsa rilasciata con licenza open è possibile riusarla e utilizzarla anche in modi diversi quindi non sto parlando della risorsa che avete chiesto prima ho scaricato una risorsa da un sito che me lo consentiva ho scaricato in questo caso una risorsa da un sito e avevo una licenza open delle prime 5 non era ND ok quindi non era non derivative rilasciata ho la possibilità di adattare di modificare di migliorare una risorsa quindi la prendo penso ai miei obiettivi di apprendimento perché noi qui stiamo sempre pensando come obiettivo di fondo all'innovazione didattica ho i miei obiettivi di apprendimento con un gruppo classe o un gruppo di utenti che ho bene in mente come li aiuto ad arrivare lì come verifico che siano poi arrivati lì tutte strategie di strutturazione degli obiettivi di apprendimento e di modalità di verifica che questi obiettivi di apprendimento attesi siano stati raggiunti alla base della strutturazione di un percorso formativo e quindi come li accompagno ad arrivare dall'obiettivo al risultato di apprendimento cerco delle risorse che siano valide dal punto di vista formativo se le cerco tra le risorse educative aperte ho la possibilità anche se non trovo la risorsa già perfetta già pronta di adattarla ai miei utenti agli obiettivi di apprendimento che ho in mente e che condivido con loro nel patto d'aula 3 mix trovo diverse risorse non me ne basta una perché ne trovo tante magari hanno approcci diversi mi piace presentare ai miei ai partecipanti alle mie esperienze formative che condividono con me il percorso più prospettive e queste risorse che trovo hanno per mia fortuna una licenza open posso mescolarle tra loro perché le licenze me lo consentono poi vediamo quando invece non lo posso fare e poi posso condividere con le altre persone il risultato di questo lavoro di ramix di ricostruzione che ho fatto per degli obiettivi di apprendimento specifici quali sono le prime persone con cui le condividerò i miei studenti i partecipanti al corso coloro che con me condividono questa esperienza di apprendimento e se l'ho potuto fare io di modificarle anche loro le potranno modificare con me che vuol dire che insieme possiamo trovare delle strategie d'aula o anche a distanza o miste per le quali anche gli studenti anche i partecipanti diventano autori di una versione voluta delle risorse pensate alla potenzialità di tutto ciò in termini di apprendimento facciamo qualche esempio dunque vediamo le vediamo retain più redistribute posso tenere una copia e la posso ridistribuire quindi posso scaricarmi il file l'esempio che chiedevate prima ma con le licenze posso scaricare nel file di questa risorsa che ho trovato e che ha una licenza open e posso condividerlo con gli studenti perché lo usino anche loro perché lo usino non solo perché lo leggano o lo studino perché lo modifichino se a loro serve oppure versione un po' più evoluta rivedo le risorse che ho trovato e le mescolo tra loro le modifico le miglioro le integro integro ad esse mie slide o altri materiali le riuso in un video faccio collaborare tra loro gli studenti per mettere insieme quelle che in una rosa di risorse che io ritengo valide o anche mettendone dentro qualcuna che per me non è valida e dico loro di ragionare in modo critico su quali risorse scegliere e come rimescolarle prima di questo però io credo di aver fatto in V-Club permettetemi un attimo di fare un salto di là sì eccoci qua allora vi chiederei di tornare su V-Club su V-Club di prima e io adesso torno a condividere quella schermata e vi propongo qualche domanda per capire insieme un po' questa parte allora posso aggiungere una risorsa si si buy and si di tizio a una mia lezione è una cosa che posso fare sì vediamo avete risposto in 28 aspettiamo ancora un attimo la maggior parte di voi sta dicendo sì ancora un attimo aspetto 37 38 39 poi anche di queste risposte vi copio la la screen capture così vedete le rivedete nelle slide ok direi magari adesso aspettiamo ancora un secondo abbiamo più o meno la metà di voi che hanno risposto ma nessuno più sta rispondendo quindi mi fermerei qui dunque il 90% di voi ha detto di sì e effettivamente sì con la licenza non commercial quindi come qualcuno di voi ha chiesto puntualmente prima lo potete fare nel momento in cui non state utilizzando queste slide e queste risorse a scopo di lucro vediamo la domanda successiva posso riusare una risorsa si si buy and si di tizio in un contesto for profit quindi dove c'è un lucro c'è un compenso in questo caso vediamo le risposte stanno aumentando certo volentieri dunque 38 dunque la stragrande maggioranza di voi ha correttamente risposto no perché la clausola è non commercial per cui non può essere l'uso commerciale non è consentito vediamo la successiva puoi mescolare tra loro mixare tra loro una risorsa ccbuy ncsa quindi in cui ho l'obbligo di attribuzione di utilizzo non commerciale e devo condividere lo stesso modo di tizio con una tua risorsa ccbuy sa lo posso fare questa è già un pochino più complicata e qui la risposta sarà interessante perché qui la domanda che io ho fatto apposta perché andiamo a toccare quelle che possono le difficoltà nella pratica se no l'utilità pratica di questi webinar diventa un po' complessa da dimostrare però vedo che già qui lo vedete già dall'immagine vedete che c'è molta più indecisione tra i partecipanti allora intanto che voi continuate a rispondere io andate avanti pure a rispondere se volete però vi do la risposta e la risposta è che in realtà mixare non è fattibile non è consentito perché entrambe le licenze che qui sono citate hanno la clausola share e like vuol dire che la risorsa che le riutilizza e che le mixa quindi che le cambia deve essere rilasciata share e like con la stessa licenza e sono due licenze tra loro diverse una è CC BY e CSA e l'altra è CC BY e CSA entrambe hanno la clausola share e like quindi tra loro sono incompatibili perché non sono uguali e quindi sia che scelga l'una sia che scelga l'altra entrambe sono vincolanti quando io però le posso usare insieme adesso questo ve lo dico dopo perché non mi ricordo onestamente se vi ho fatto una domanda stupenda specifica ecco ecco qua adesso posso mixare una risorsa CC BY e CSA di Tizio con una risorsa CC BY SA di Caio quindi la domanda prima era con una risorsa CC BY SA mia e perfetto qui la maggioranza sta dicendo correttamente di no e adesso faccio un salto indietro allora intanto che voi continuate a rispondere faccio un salto indietro la domanda di prima che era poco diversa da questa se ci avete fatto caso era CC BY NC SA di Tizio con CC BY SA mia perché in quel caso c'è una differenza la differenza sta nel fatto che se il soggetto sono io la risorsa così com'è effettivamente non è compatibile a un remix con quella di un'altra persona se sono nel caso di questa domanda che vedete adesso e sto riusando una risorsa di Tizio e una di Caio mi fermo qui non lo posso fare fine adesso vi faccio fare il salto in più che è fondamentale per noi per tenerci le libertà quando io sono l'autore di una risorsa e io ho associato una risorsa una licenza a quella risorsa non ho perso il diritto mio come autore di riusarla in qualunque modo e con qualunque scopo se io ho rilasciato una risorsa con facciamo che l'ho rilasciata io con la non commercial io posso continuare a usarla a scopo commerciale assolutamente sì non sto dando ad altri il permesso di riusare la scopo commerciale quindi la risposta che la maggioranza di voi ha dato qua che è no è corretta se io ho risorse di altri che hanno queste due licenze non sono rimixabili tra loro le voglio rimixare lo stesso badate bene sì allora contatto gli autori e dico mi piace questa risorsa tua mi piace questa risorsa tua tizio mi piace questa risorsa di Caio vedo l'efficacia nel rimixarle in questo modo cosa dite mi date il permesso e tizio e Caio dovranno fare come nel caso dei tutti i diritti riservati arrivo perché c'è una domanda e darmi il permesso esplicito se uno delle risorse è mia io ho il permesso di fare quello che voglio con le mie risorse posso crearmi una società a scopo di lucro sulle risorse mie la licenza parla agli altri dice agli altri che diritti io sto decidendo di dare loro senza che mi contattino quando loro riusano la mia risorsa ma tutti i diritti che io ho dall'inizio continuo ad averli sulle mie domanda è una bellissima domanda perché essendo NC allora io ho creato un derivative e NC non mi vincola sul mi vincola sull'uso che ne faccio io è chiaro che se io però dico che la mia opera in quella parte in cui è un derivato dell'altra se lo è interamente devo citare la fonte la fonte rimane da citare correttamente con la sua licenza e il link al legal code della licenza quindi il mio prodotto derivato in sé per le parti che attengono a me cioè la parte di modifica che ho fatto io può essere CC BY ma la parte originaria non è rimane NC vi spiego meglio se io prendo la risorsa di Bianca Bianca fa una slide facciamo una cosa contenuta una slide che a me piace tantissimo la slide di Bianca è in italiano ed è CC BY NC io voglio tradurla in inglese e modifico i colori e aggiungo parti mie la parte mia il mio copyright sul prodotto derivato è le parti che ho aggiunto e l'attività di traduzione e le modifiche grafiche ok il contenuto originario che io ho l'obbligo di citare perché Bianca aveva condiviso CC BY NC continua ad essere da citare correttamente quindi io dirò quest'opera in queste parti è un derivato di da l'opera di Bianca Santolini raggiungibile che si chiama slide che è linkata a questo indirizzo web e che è stata rilasciata con licenza CC BY NC e devo dire quale parte ok questo avviene per tutte le opere NC le parti che aggiungo io io voglio rilasciarle CC BY benissimo quelle parti sono CC BY così come nelle slide che vi condividerò nelle slide che io vi condivido le parti che abbiamo creato noi a Metid e anche Bianca ha fatto una larga parte nella creazione di queste slide sono rilasciate con licenza CC BY ma le parti in cui abbiamo riusato pezzi di altri quelle invece sono citate con la licenza di altri spero di aver risposto altro esempio sempre su VClub puoi mixare una risorsa CC BY NC di Tizio con una risorsa CC BY NC di Caio vedete che qui c'è una lievissima differenza la differenza è che in questo caso ci siamo spostati dal sharealike in entrambe le licenze non abbiamo più lo sharealike abbiamo però sempre non commercial è fattibile la maggioranza sta dicendo sì qualcuno dice no e noi dobbiamo convincere i no che invece è un sì perché di fatto è fattibile perché la licenza più vincolante è CC BY NC e 6 cioè che richiede di condividere allo stesso modo entrambi sono non commercial quindi il lavoro che deriva da questo remix sarà a sua volta nel commercial e andrà condiviso con delle due la licenza che mi vincola sul condividere allo stesso modo quindi sarà la licenza del remix sarà CC BY NC e 6 quindi è corretto che è un sì lo posso fare e ciò che mi stringe diciamo che mi restringe nella mia scelta della licenza del remix è la licenza con lo sharealike adesso facciamo un'altra prova posso mixare una risorsa CC BY di Tizio con una risorsa CC BY di chiunque poi pian piano vi libero da queste continue prove ma intanto giochiamo un po' che attenzione la parola è mixare oltre alle licenze allora la maggior parte di voi dice no e qualcuno dice sì no aumentano ed è effettivamente corretto no mixare io non posso perché CC BY MD non consente derivati cosa posso fare io se ho queste due risorse la CC BY mi consente praticamente qualunque cosa è sufficiente che io citi l'autore come ricorderete la non derivati invece non mi consente di creare opere derivate cosa posso fare allora io in questo caso io ho una risorsa CC BY che è perfetta per i miei obiettivi e una risorsa CC BY che non mi pone nessun vincolo la prima mossa che farei io se non ho trovato un'alternativa con una licenza più aperta è scrivere all'autore autore grazie per aver creato questa risorsa grazie per averla rilasciata in rete mi piace tantissimo è perfetta per questo obiettivo che vorrei perseguire insieme ai partecipanti a questa esperienza didattica mi rilasci un permesso ad hoc per riutilizzarla se sì posso poi condividere le slide o la risorsa che creo riutilizzando la tua fonte posso riusarla così com'è e attaccare altri materiali che la completino che mi consenti se è un video di tagliare solo la parte che mi serve così da non dover stare a dire ai miei studenti andate al minuto 3.22 e guardate solo fino al minuto 4.15 perché questo sarebbe un altro modo ecco se l'autore mi consente di fare questa cosa per una situazione specifica contestualizzata in cui io lo contatto e racconto tutto perfetto già avendo rilasciato la licenza con CC BY ND sta rendendo fattibile l'essere contattato in qualche modo se non me lo permette quello che io posso fare il massimo della libertà che mi resta è riusare quella risorsa così com'è senza toccarla in alcun modo non ricondividerla posso dare il link in modo che gli altri la raggiungano autonomamente ma non posso ricondividerla la posso mostrare in una situazione contestuale non posso girarla online a mia volta da un altro sito non posso ricaricarla insieme integrata insieme alle altre risorse posso rispettarne totalmente i confini diciamo e associarla in una collezione che non è un remix la collezione è un affiancamento di risorse così come sono allora in quel caso io non l'ho modificata in alcun modo l'ho rispettata totalmente nella sua integrità e quindi ho associato adesso le altre parti questo rispetta comunque la licenza con cui è stata data ma non lo posso ridistribuire io insieme al resto quindi non posso remixarlo direi che per ora abbiamo terminato con VCLAP quindi torniamo alle nostre slide e datemi un po' di seconda torniamo qui allora per riassumere e questa questa slide la trovate poi c'è una domanda ok ok adesso ci siamo dovreste vedere le possibilità di delle 5R viste insieme alle varie licenze cioè cosa consente di fare ciascuna licenza cosa non consente di fare vedete che i non derivative l'ultimo esempio che abbiamo fatto non consentono il la revisione né tanto meno il il rimescolamento in che senso le posso ridistribuire così come vi ho detto se io sto facendo una collezione se io metto a fianco la slide di Bianca di cui facevamo qui facevamo riferimento prima che è non derivative insieme alle mie slide la metto dentro la lascio così com'è e non ho modificato nulla la cito con la licenza che hai con la fonte dalla quale l'ho ripresa questo io lo posso fare con la questione non commercial già vedete che dipende di caso i punti di domanda stanno di caso in caso perché va valutato in base all'uso che se ne fa se è commerciale o meno un esempio che vi faccio di questo e mi interessa proprio perché è divertente vi invito caldamente ad andare a vedere avete il link sulle slide e adesso Bianca ve lo mette anche nella chat c'è questo gioco che si chiama Cards Against Humanity ed è un gioco dissacrante dove è un gioco di carte che è nato per delle serate passate da un gruppo di ormai ex studenti che volevano divertirsi nelle loro serate private hanno deciso di creare queste carte sul sito potete scaricare totalmente i file delle carte e una delle chiavi di successo è stato proprio l'aver rilasciato tutto con licenza CC BY NCSA quindi chiunque può scaricarle può tradurle nella propria lingua non può lucrare può condividere il risultato con lo stesso licenza ok perché l'hanno fatto con la licenza Creative Commons questo è uno dei cofondatori di questo gioco che loro hanno venduto hanno fatto una versione in scatola ed è stato un grandissimo successo di vendite peraltro la licenza vi ripeto è non commercial ma loro sono i detentori del copyright quindi loro l'hanno si commercializzata perché loro lo possono fare per loro la scelta della licenza Creative Commons è stato un no brainer cioè non hanno neanche dovuto pensarci ci sono arrivati subito è stata una scelta che hanno data per scontata perché è quella che consentiva di avere la maggioranza di persone coinvolte creare il gioco e offrirlo in modalità gratuita e disponibile con una licenza Creative Commons ha portato a una situazione incredibile dove loro sono uno dei sono i detentori di uno dei dei copyright più preziosi perché è uno dei giochi che ha avuto più successo a livello globale e loro non hanno speso un attimo e neanche un euro un dollaro direi in questo caso nelle attività di marketing perché è la licenza che ha fatto il lavoro al loro posto questo è un esempio per dirvi che anche in termini di riconoscimento del valore didattico di quello che fate condividere con le licenze potrebbe essere un grande strumento per moltiplicare diciamo il riconoscimento del lavoro che fate voi attraverso le copie del vostro lavoro stesso adesso io darei la parola a Eleonora per prima che che ci racconterà del progetto Encore Plus Eleonora se vuoi condividere tu Eleonora Pantò se vuoi condividere tu il tuo schermo arrivo subito fai con comodo e lascio la parola a te che ci racconti invece di un caso specifico di un progetto che sta avendo un grandissimo successo a livello europeo è un progetto estremamente interessante che io seguo con grande cura e che veramente vale la pena andare a esplorare sta contribuendo tanto all'avanzamento delle conoscenze sull'open a livello europeo mi confermi che ci vedono si vedono si vedono grazie allora intanto grazie tantissimo a Paola per questo invito perché pur avendo come dire studiato queste cose da anni impari sempre delle cose in più da persone appunto competenti e anche come dire brave a disseminare e divulgare grazie anche per questi seminari che sono secondo me veramente utili e che raggiungono spero qualcuno che di questi temi non ha non ha avuto ancora modo di conoscere perché appunto uno dei problemi è che queste cose rimangono poi sempre all'interno degli stessi circoli appunto come diceva Paolo io vi parlerò di questo progetto europeo e lo faccio un po' con due cappelli uno quello della fondazione politecnico di Milano e quello del network open education Italia il progetto andrò abbastanza velocemente perché è un progetto abbastanza complesso e anche come dire difficile da trasferire perché è abbastanza evoluto nelle varie problematiche che sono connessi a questi temi quindi vi chiedo un po' di pazienza se certe cose magari vi sembreranno un po' astruse ma è proprio perché è veramente complesso Encore Plus è un progetto che è partito due anni fa e finirà quest'anno fine dell'anno che nell'ambito del programma Erasmus Plus dell'Unione Europea si occupa appunto di favorire l'adozione di risorse educative aperte in ambito europeo raccogliere catalizzare e condividere pratiche innovative nel settore dell'educazione e le imprese e attenzione a questo tema delle imprese che è molto importante e sviluppare comunità di portatori di interesse stakeholder per lo scambio di conoscenze questo è l'indirizzo del sito dove potete andare troverete più che altro tutti i materiali che adesso vi presento rapidamente questi sono i partner vedete che già nella partnership c'è una composizione particolare perché questo è il coordinatore che è ONG che si occupa proprio di promuovere l'educazione aperta poi ci sono delle università l'università del Baden-Württemberg l'università aperta della Gran Bretagna UNIR che è un'università spagnola completamente online e delle PMI che sono appunto questa Knowledge for Law Jubel che adesso ha cambiato nome che per chi di voi conosce H5P è proprio l'azienda che produce H5P la fondazione Politecnico Canvas che è un'altra diciamo azienda che produce una piattaforma di learning che forse conoscete è l'università di Dublino la città di Dublino e quali sono gli obiettivi che questo progetto si dà come vi dicevo appunto uno degli obiettivi principali è quello di coinvolgere gli operatori economici perché a un certo punto si è come dire capito che queste le potenzialità delle risorse educative aperte vanno oltre travalicano un po' quello che è il mondo dell'accademia e della scuola e quindi si vuole far capire anche a chi si occupa ad esempio di formazione aziendale che i contenuti aperti hanno delle potenzialità per lo sviluppo delle risorse umane delle aziende poi appunto vogliamo favorire l'adozione delle OIAR in Europa quindi dimostrando delle pratiche di successo contribuire allo sviluppo di un'area di innovazione favorendo lo scambio di conoscenze di pratiche creare se possibile una nuova visione di quella che può essere un'infrastruttura tecnologica e stabilire delle strategie di revisione della qualità delle risorse aperte qui manca una parola perché appunto come è facile immaginare tutti possono rendere le proprie risorse aperte e per fortuna ma c'è sempre un problema quando poi devi scegliere quella che va bene per te come fai a determinarne la qualità e questo credo che sarà uno dei temi che saranno affrontati quindi tornando appunto al progetto il progetto parte da cinque sfide che sono qua identificate che sono definite challenge che sono queste nell'anello più esterno che sono appunto delle un basso sviluppo di strategie a livello istituzionale per cui appunto si vuole fare un aiutare quindi definire delle strategie per lo sviluppo di politiche sulle OIR una mancanza di un modello di qualità europeo delle OIR una mancanza di interoperabilità fra i vari repositori vedete fra un po' appunto dopo Paola parlerà di quelli che sono i depositi dove appunto questi materiali vengono vengono caricati e appunto uno dei problemi è che sono come dire dei silos per cui le cose che trovate in certi repositori le trovate sono lì e quindi magari è necessario capire invece come fare a battere queste barriere la frammentazione delle community OIR perché appunto ci sono tante community magari a livello nazionale o a livello di disciplina che non si parlano è la mancanza di approcci innovativi sulle OIR quello che vi dicevo appunto legato soprattutto all'aspetto business il progetto si è organizzato su quattro temi che sono appunto pratiche politiche qualità tecnologie e modelli di business innovativo e sono i cosiddetti focus che stiamo analizzando appunto organizzandoci in diverse team in diverse squadre che poi a loro volta in una fase successiva saranno ulteriormente integrati per capire appunto come favorire l'innovazione aziendale l'occupazione usando le OIR come favorire l'innovazione nell'istruzione superiore come favorire la cooperazione fra le imprese e l'università come lo facciamo lo facciamo appunto creando tante occasioni di incontro che sono appunto i nostri network event che sono divisi per i quattro focus sono stati organizzati 16 eventi che di cui appunto quattro sono in questo mese alla fine vi lascio il calendario e ad ogni evento viene poi prodotto un position paper quindi qualcosa che comunque tiene traccia di quelli che erano i temi affrontati la fase successiva è poi quella appunto di integrare questi temi come abbiamo visto nella slide precedente in eventi che appunto mettono insieme spesso università e aziende per la produzione poi di raccomandazioni e white paper nello specifico la fondazione Politecnica di Milano lavora soprattutto sull'aspetto delle tecnologie per cui io vi farò un affondo su questa parte che conosco un pochino meglio anche se non benissimo perché non ho seguito il progetto dall'inizio però appunto quindi che cosa abbiamo fatto per lavorare sul tema della tecnologia innanzitutto abbiamo lavorato sul tema dei fornitori cioè chi sono quelli che forniscono le OIAR e quali sono le caratteristiche che hanno questi soggetti puoi capire come funziona la catena di produzione per la produzione di OIAR confrontare tutti questi depositori repertori repositeri su anche non solo sulle caratteristiche tecniche ma anche attraverso quelle che sono le modalità d'uso quali sono quelli preferiti dagli utenti e infine fare delle analisi web per mappare le tendenze abbiamo fatto alcuni pezzi di queste indagini ad esempio hanno portato anche l'individuazione di aziende particolarmente interessanti ad esempio questa è una start-up che si chiama biblio.com una start-up italiana che ha come dire immaginato di fare un modello di apprendente quindi un modello di studente e quindi inizia con una specie di intervista dicendo dimmi quello che vuoi fare quali sono le tue competenze come pensi di migliorarli e poi diciamo la gente intelligente si preoccupa di selezionare contenuti adatti a costruire un percorso diciamo di formazione pescando nei diversi MOOC che sono stati costruiti nei vari anni e quindi come dire crea un percorso personalizzato per fare questo sviluppo professionale questa start-up si rivolge essenzialmente agli aziende e ai come dire gestori di risorse umane quello che abbiamo fatto noi appunto oltre che intervistare e cercare casi interessanti a livello aziendale abbiamo anche consultato esperti di Open Education in tutta Europa facendo una survey online e poi abbiamo anche avuto appunto un incontro con il network Open Education Italia che è appunto costituito da persone che in Italia diciamo si occupano di questi temi e di cui molti contribuiscono a questo seminario e sono magari anche qui presenti su che domande ci siamo che domande abbiamo fatto al focus che erano nella survey essenzialmente tre domande un po' magari così costruite in modo un po' come dire provocatorio che erano appunto legate sia alla qualità dei contenuti quindi come possiamo fare per evitare che le OI al prodotto rimangano inutilizzate sapete che c'è un bassissimo tasso di riutilizzo perché ovviamente molto spesso quando si produce unità didattica già ci sentiamo come dire molto bravi a condividerle a rendere aperte ma rendere riutilizzabili è ancora un passaggio è un passaggio diverso che proprio richiede una progettazione diversa poi abbiamo ragionato sulla sostenibilità e quindi abbiamo detto ma siamo sicuri che le OI debbano essere necessariamente gratuite o ci sono degli altri modelli di business o modelli di sostenibilità che possono consentire alle OI di essere usate anche se non sono completamente gratuiti e infine qual è il ruolo che possono avere le tecnologie più avanzate come l'intelligenza artificiale nel supportare lo sviluppo e la diffusione queste domande le abbiamo fatte appunto al panel della rete educazione italia le abbiamo anche fatte online in un evento abbiamo raccolto le risposte in questo padlet che poi potete ovviamente andare a guardare quindi appunto come dicevo uno degli aspetti più interessanti della parte sull'ustudio delle tecnologie è quello di capire come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata per come dire favorire l'uso la diffusione di queste OI quindi una delle risposte è quella appunto di renderle accessibili quindi renderle ugualmente visibili e raggiungibili un'altra è quella di abbinare un modello di studente a un modello alla risorsa specifica e infine garantire appunto che la qualità di queste risorse sia sufficientemente valida all'interno del modello che stiamo appunto progettando perché in realtà il progetto si ferma alla progettazione non realizzerà come dire uno strumento ma una visione di un'infrastruttura possibile stiamo lavorando appunto con i nostri panel che sono appunto Canvas che è uno dei fornitori di piattaforma di apprendimento e che appunto consente l'utilizzo di OIA dal suo interno e l'altro soggetto è H5P HP5 che è H5P che permette appunto di creare materiali interattivi open source che quindi sono più stimolanti per il discente tutti questi elementi contribuiscono allo sviluppo di questo sistema che è stato chiamato X5Gone che ha l'obiettivo di collegare gli siti ODR in tutto il mondo permettendo diversi tipi di accesso quindi sia con transmodali transculturali truss dominio scientifico che utilizzano più lingue e più siti per questo appunto una delle attività fatte è quella di capire come questa piattaforma che già indicizza diversi repository che si chiama X5Learn possa essere integrata all'interno di questo modello più ampio che appunto come vi dicevo ha l'ambizione di mettere insieme diverse piattaforme didattiche diversi contenuti di diverso tipo diverse culture diverse fonti tutto questo con una particolare attenzione a quello che sono diciamo un po' i limiti quindi capire come funziona effettivamente questo modello di intelligenza artificiale aiutare anche gli utenti a capire come funziona questo motore e soprattutto una fortissima attenzione agli aspetti della privacy perché ad esempio gli utenti possono decidere che non vogliono che i loro dati siano neanche rilevati quindi in teoria si viene c'è una fortissima attenzione alla tutela degli aspetti etici di questo motore quindi ecco punto come avevo detto molto brevemente vi ho dato qualche accenno al progetto e vi invito appunto a seguire quello che facciamo in particolare su LinkedIn abbiamo un gruppo aperto a tutti a cui ci si può iscrivere una newsletter in cui mandiamo le informazioni e infine ci sono questi eventi di cui uno è stato la settimana scorsa proprio sulla parte della parte innovazione la prossima settimana ci sarà questo sulla qualità il 21 di marzo ce ne sarà appunto uno sugli aspetti tecnologici che sarà proprio coordinato dal Fondazione Politecnico di Milano proprio perché appunto abbiamo deciso che in fondo di questa cosa bisognava parlarne e quindi cercheremo di capire appunto con i colleghi degli aspetti tecnologici quindi Canvas H5P e anche i colleghi di K4All che si occupano dell'intelligenza artificiale che cosa cambierà e poi alla fine appunto l'ultimo sul tema dei modelli organizzativi e quindi io ho finito e vi ringrazio Grazie tantissimo Eleonora io non posso che sottoscrivere totalmente l'interesse per i temi trattati e anche per la modalità in cui si sta lavorando in core class ho partecipato a diversi dei workshop da loro organizzati ed è ogni volta stata un'occasione per imparare tanto quindi vi consiglio caldamente di registrarvi per questi eventi e magari andare a vedere anche le registrazioni di quelli precedenti quando sono disponibili grazie grazie Eleonora grazie a te darei subito la parola a Juliana adesso così vediamo anche un'altra prospettiva e su un altro progetto che coincidenza vuole un nome molto simile perché il nome è encore senza il plus questa volta e usiamo un nuovo strumento con Juliana per cui sono contenta anche di questo a te la parola ok grazie mille Paola è stato molto interessante seguire anche diciamo la prospettiva di un progetto che lavora su più livelli particolarmente a livello politico istituzionale che l'ancore e per questo motivo sarà encore plus però il nostro ancora è più limitato da questo punto di vista e io arriverò all'ancore utilizzando proprio una narrativa cioè proprio raccontandovi la mia storia come educatore come practitioner e come ricercatrice nell'ambito dell'educazione aperta e per consentirvi di vedere in modo molto concreto anche a livello di una testimonianza quali sono stati i problemi che se avete prestato attenzione a diciamo la presentazione di Paola e particolarmente la presentazione di Eleonora avrete modo insomma di rispondere di interagire in quelle che le interazioni che vi proporrò per pensare e discutere un pochino insieme sulla prospettiva di uso degli Open Educational Resources io sono stata invitata giusto appunto per pensare a come possiamo diventare diciamo attivi nel campo dell'educazione aperta a partire dall'uso degli OIR allora andando alla prima interazione io la mia presentazione è tutta basata su interazioni non sentitevi obbligati e a livello di informativa sull'uso dei dati vi racconto che questa presentazione non è ancora un Open Educational Resource difatti poi alla fine commenterò alcuni dei problemi che ha questa presentazione che diventerà poi con i dati anonimizzati allo scopo di formazione di ricerca di chi lo voglia una CC BY SA quindi un oggetto diciamo sotto licenza Creative Commons dal quale io chiedo l'ha detto già Paola una condivisione allo stesso modo e quindi a chi non sia d'accordo l'unica cosa che deve fare è astenersi di partecipare io lascio solo qualche qualche minuto per raccogliere ancora le i vostri diciamo le vostre risposte e per partecipare basta andare su www.menti.com e utilizzare il codice 4418 8952 quindi basta su aprendo un'altra scheda o con il proprio cellulare andare su questo sito e utilizzare questo codice che si vede che è proiettato in alto c'è anche il codice QR però non non l'ho inserito poi l'avevo dato l'avevo trasmesso poi non l'ho inserito qui però si arriva ci si arriva allo stesso da da pc così come da da proprio cellulare ok si stanno raccogliendo un po' le adesioni lascio ancora un momento benissimo ok nel frattempo se vi fa piacere potete anche nella chat dirmi da che da che ambito provenite cioè dell'ambito della formazione universitaria oppure dall'istituzione dell'obbligo o ancora dalla formazione continua ok in modo tale che diciamo non mi è stato dato conoscervi ex ante le storie di utilizzo delle OIR cambiano molto a seconda dagli ambiti di provenienza e io la storia che vi racconterò è di un utilizzo maggioritariamente focalizzato nell'ambito universitario e nell'ambito dell'istituzione dell'obbligo però come ha giusto appunto segnalato Eleonora più recentemente si è focalizzata la possibilità del riutilizzo nel contesto della formazione continua ok allora cominciamo con questa storia mentre io la racconto voi potete dirmi se questa questo che questo esempio che io sto raccontando può essere un approccio efficace per l'uso di OIR di risorse educative aperte oppure se avete già e anche se avete già una buona esperienza in questo approccio allora vi racconto che correva il 2006 e noi siamo stati invitati a collaborare in un progetto i Content Plus i Content Plus era una linea della Commissione Europea per supportare che cosa la condivisione la creazione condivisione in archivi istituzionali e archivi digitali di risorse e vedete nell'immagine di Space bello grande perché di Space era una tecnologia rilasciata dall'MIT messa a disposizione delle persone insomma delle istituzioni in modo libero che poteva essere scaricata per creare degli archivi istituzionali e se voi andate a guardare in molti archivi istituzionali di università di tutta Italia e di tutto il mondo la tecnologia alla base di Space e qual'era la cosa interessante di Space dalla quale si discuteva moltissimo proprio la possibilità di mettere delle etichette alle quali noi chiamavamo e si era iniziato a chiamare in quel momento metadati quindi dati che descrivevano quel contenuto digitale che si andava a caricare che ancora non denominavamo OER Open Educational Resources benché per l'UNESCO già nel 2002 il termine fosse stato coniato e quindi noi quello che abbiamo scoperto a partire da questo progetto e messo a frutto proprio all'interno della nostra istituzione che era Univirtual era un gruppo a supporto dell'e-learning dell'università di Venezia era che dando le etichette adeguate i metadati adeguati queste infrastrutture digitali si parlavano tra di loro quindi questo DSpace si parlava con Drupal si parlava con Joomla si parlava con Moodle e a questo punto era tra il 2008 e il 2010 noi potevamo creare un'interfacina web abbastanza simpatica e utilizzabile che i nostri utenti alla quale i nostri utenti potevano approcciare cosa è successo durante il primo anno di vita di lavoro intensissimo lavoro perché cosa facemmo noi prendemmo tutti gli oggetti che avevamo caricati sui nostri Moodle d'Ateneo e li facemmo cioè lavorammo diciamo le descrizioni i metadati il titolo l'ambito disciplinare discutiamo moltissimo sui metadati fino a quando non siamo venuti a conoscenza del Dublin Core quindi dell'OA e diciamo era una serie di istruzioni per creare questi metadati e ci dedicamo tutto tutto questo tempo di circa due anni a organizzare questo questo database e l'interfaccia consentiva di cercare con un motore molto diciamo abbastanza agile con per esempio l'ambito disciplinare la tipologia di risorse e quant'altro le risorse che erano rese disponibili senza licenze allora non si sapeva bene come comportarsi questo contenuto digitale che cosa successe durante il primo anno di pilotaggio di pilot che avevamo pochissima utenza praticamente c'era un centinaio di soprattutto docenti della scuola secondaria che erano stati i nostri studenti che approcciavano soprattutto per andare a cercare oggetti che conoscevano ed è allora che noi abbiamo compreso la rilevanza della della questione della sfera sociale della condivisione e vedete in basso delle immagini delle icona perché se la prima icona era relativa alla possibilità di cercare era estremamente rilevante consentire alle persone di condividere creando gruppi di condivisione di discussione e quindi la possibilità di remix e di integrazione nella propria progettazione didattica con soprattutto un supporto esperto di tutor e quindi il progetto si sviluppò come modello formativo in cui c'erano come minimo tre livelli il livello di ricerca di risorse il secondo livello di communities per diciamo la condivisione e il terzo livello di progettazione con risorse a supporto e questo era tra il 2010 e il 2011 che cosa successe con questo progetto che l'università decise il gruppo si smembrò c'è stata una separazione e l'università decise di non supportare ulteriormente questa infrastruttura digitale su DSpace e che al giorno d'oggi queste risorse sono disgregate in più database e questa è la storia nella seconda seconda puntata di questa storia io educatore con altri decidemmo di iniziare utilizzare gli academic social network ASN come academia o research gate e su academia iniziamo a condividere per esempio in questo caso che voi vedete a destra una serie di piani completi di insegnamenti universitari con tutto il materiale relativo quindi tutte le slide tutti i set di slide che erano stati creati e quindi tutti i worksheet che utilizzavamo per condurre i lavori con i nostri studenti a partire dall'uso proprio sociale consentito dall'interfaccia accademia ora io non so cosa vi sembra se possa essere un approccio efficace per l'uso delle OIR e se abbiate mai provato a caricare risorse su accademia nel senso come un tipo di tecnologia che appena magari non so se ci sarà qualche non voglio che vi sentiate assolutamente liberi però sarebbe interessante capire fino a che punto abbiate avuto qualche esperienza di utilizzo di accademia perché ora vi farò un commento mentre si raccolgono le risposte rispetto a che cosa successe con questo approccio Uliana perdonami se ti interrompo se riesci a chiudere in un paio di minuti perché poi abbiamo ancora tutti gli esempi da guardare dei repository ok allora veniamo direttamente al progetto ancora bene allora io dico di questo materiale Accademia un academic social network ha un modello di business privato per cui è a pagamento benché le risorse siano libere e sia molto facile condividere queste risorse ovviamente la situazione di condivisione il tipo di infrastruttura tecnologica non lo rende un approccio efficace per le OIAR dopodiché ho lavorato nella condivisione su blog e i blog hanno creato giusto appunto tra il 2009 e a tutt'oggi tutta una discussione soprattutto relativa a dove risiedono le infrastrutture tecnologiche ovvero è aperto è possibile scaricare riutilizzare la tecnologia lo consente però se io utilizzo la tecnologia gratuita fornita da Wordpress a questo punto Wordpress diventa anche proprietario della mia risorsa quindi vedete che qui l'infrastruttura tecnologica che io vi raccontavo sin dall'inizio diventa ed è un problema ed è il problema principale che si affronta nel web dei dati successivamente ho iniziato a lavorare in modo più informato anche a partire dall'evoluzione della discussione sull'open access negli archivi istituzionali in particolare ho lavorato molto in collaborazione con l'archivio istituzionale dell'Università Toverta di Catalunia in cui il controllo è dell'istituzione la tecnologia l'infrastruttura tecnologica e dell'istituzione e a questo punto l'inviare anche un supporto da un team di bibliotecari rispetto alla tipologia di licenze da utilizzare per la condivisione delle OIAR e ovviamente poi al presente sto lavorando insieme a un gruppo di colleghi alla creazione di insegnamenti completamente basati su altre risorse educative aperte che hanno come base una qualità e una licenza che contraddistingue la possibilità del riutilizzo e infine creo contenuto che va viaggia dalla didattica alla ricerca insieme agli studenti del dottorato in scienza pedagogica dell'Università di Padova in cui collaboriamo prima ancora che a condividere risultati di ricerca ma anche risultati della didattica come per esempio potrebbe essere questo set di slide con le risposte che indicano già un'opinione un dialogo tra chi è presente e chi sta esponendo non soltanto un flusso informativo da parte mia verso di voi ma un'idea sociale sempre sottostante all'idea di riuso e uso delle Open Educational Resources e salto quella slide su insomma qui Eleonora l'aveva già detto io ho affrontato nella mia storia perlomeno cinque problematiche le problematiche io qua le appongo come domanda ma vado veloce per quello che mi per come diciamo il problema che abbiamo di tempo e che non si tratta solo di reperire o oppure di pubblicarli ovviamente ci sono le problematiche di copyright che sono inerenti non solo agli oggetti ma anche alle infrastrutture digitali che noi utilizziamo e c'è una questione di incompetenza della protagonista di chi vi parla che ha sviluppato la propria conoscenza la propria competenza di utilizzo delle OIR in circa 15 anni a questa parte e penso ancora di dover fare tanta strada insieme a tanti altri colleghi e questo ha a che vedere con la rilevanza delle communities di uso e della discussione e delle strategie istituzionali che mi consentono di orientare la mia pratica ovvero non solo il fatto di pensare a creare OIR o di cercare OIR ma di orientare una mia pratica professionale basata nelle risorse educative aperte o pratica educativa aperta e vengo ad ancora quello che fa è utilizzare un sistema di intelligenza artificiale per classificare delle OIR utilizzando questi metadati di cui vi ho parlato all'inizio in tipologie di skills digital di intraprendenza o imprenditorialità e green quindi classifica le OIR a seconda di come le OIR possono dare supporto allo sviluppo di skills e utilizzano l'intelligenza artificiale per questa classificazione mettendola in dialogo con sistemi di classificazione delle skills come l'ESCO a livello europeo ma inoltre questa è una prima parte del progetto basata sul data driven la seconda parte è expert driven perché noi coinvolgeremo ci stiamo lavorando ancora a delle persone educatori dell'ambito del vocational training dell'istruzione superiore a pensare a degli scenari abbiamo già raccolto 23 scenari e ci stiamo ancora lavorando e pensare come introdurre in questa diversificazione sociale che può avere il riutilizzo delle OIR dandone esempio perché diventi un frutto da mangiare da altri la risorsa non solo cercata efficacemente a partire da un motore basato su intelligenza artificiale ma anche basato su come io esperto utilizzerei o educatore utilizzerei queste OIR in contesto in diversi scenari educativi quindi questa è l'ultima fase di questa storia non mi dilungo sulla discussione su chat GPT nel senso che chat GPT ci impone tantissime domande nel senso che io finora vi ho parlato di motori di ricerca in cui le risorse educative si cercano ma con chat GPT quello che io posso fare è semplicemente interrogare dando un cue dando un'indicazione e ottenere quello che voglio che ha già una configurazione chiaramente con tutte le limitazioni di questo strumento che in questo momento è in grande discussione proprio a partire dalle pratiche di community di educatori io sto seguendo su twitter in diverse lingue tutte le pratiche che si stanno raccogliendo a partire da includere chat GPT nella progettazione didattica ma il punto di domanda e con questo si davvero chiudo questa è davvero una risorsa educativa aperta possiamo considerare che il frutto di chat GPT è una risorsa educativa aperta all'inizio io avevo usato una immagine di da lì che è un altro sistema per generare immagini e da lì vi devo dire ha tutte le implicazioni problematiche di copyright del materiale che è basato su intelligenza artificiale e con questo che cosa voglio dire che l'intelligenza artificiale spesso e volentieri va su diversi database non sempre nel rispetto dei copyright del materiale che utilizza per i propri algoritmi generativi e che il risultato non sappiamo non lo possiamo collegare né a autori né a diritti né a protezione dei diritti d'autore quindi queste sono tutte domande aperte sulle OIAR per il futuro grazie mille Giuliana abbiamo solo due minuti e ancora un sacco di cose da dire per cui spero che voi vogliate fermarvi un attimo di più grazie mille vi invito anche ad andare a vedere più in dettaglio poi la presentazione di Giuliana e condivideremo tutto appena avremo finito di editare il video e di caricarlo intanto qualcuno nella chat aveva chiesto quindi parto da questo perché è una domanda vostra come faccio in Google a cercare risorse educative aperte io ho scritto bicicletta per partire da un esempio molto semplice se voi guardate io ho Google impostato in inglese ma in qualunque lingua voi lo abbiate impostato avete gli strumenti a disposizione da questa da questo menu strumenti c'è un altro menu a tendina scusatemi dal menu more ho sbagliato perché non me la fa più vedere ho sbagliato scusate solo dalle immagini quando partite da Google ve lo fa fare solo dalle immagini giustamente perché prima si poteva fare su tutte le risorse ma adesso no quindi quando io vado nel menu immagini e riapro la funzione tool potete vedere dal menu sotto che c'è anche il menu dei diritti di utilizzo qui dentro qui dentro potete selezionare invece che tutti i diritti di utilizzo anche solo Creative Commons licenses e qui tutti i risultati che vengono restituiti adesso la parte delle pubblicità che restano pubblicità sono le immagini che sono state rilasciate con licenze Creative Commons quindi quelle sponsorizzate che fa parte essendo Google uno strumento commercial c'è sempre il problema di tutte le immagini sponsorizzate ma tutte queste che vedete qui su Pixie su Wikipedia Public Domain Picture sono tutte immagini e poi vedete c'è un nuovo box di quelle sponsorizzate sono immagini che sono ricercabili in modalità open allora siccome adesso proprio non abbiamo tempo per andare in dettaglio su questo posso fare due cose nel prossimo incontro quando parliamo di creare le OIR vi aggiungo degli elenchi di repository dove voi potete trovare immagini da riutilizzare per creare le vostre OIR perché nella mia mente se voi avete l'intenzione di creare OIR a scopo educativo non vi basta la singola immagine avrete bisogno di immagini da inserire in altre risorse questa tabella che trovate adesso qui è una tabella che invece vi potrà molto fare comodo in futuro e sotto c'è il link alla risorsa e alla licenza come sempre in un'altra forma rispetto alle altre che troverete in questa presentazione perché così ne potrete vedere altre se voi siete d'accordo io vado avanti ancora 5 minuti così vi do un quadro almeno del resto delle risorse che trovate nella presentazione perché non facciamo più in tempo adesso a vedere in dettaglio tutto ma ve le lascio tutte linkate nelle slide in questa matrice voi trovate uno strumento che noi utilizziamo spessissimo quando creiamo delle risorse e quando usiamo risorse perché in questa matrice vedete quali licenze sono compatibili tra loro e quali no ci sono delle tabelle più avanzate di questa sulle quali adesso non scende in dettaglio che però vi consentono di ragionare anche su quelle che prima abbiamo chiamato le collection le collezioni adesso partite da questo questo quadro che voi vedete davanti vi fa vedere proprio immediatamente quali sono le licenze più facili da utilizzare le risorse con queste licenze sono più facili da riutilizzare da mescolare con altri dove vedete le X c'è un problema invece di incompatibilità quindi risorse che hanno licenze diverse possono essere tra loro compatibili quindi le potete riusare per i vostri remix e le potete adattare in una nuova risorsa che create voi oppure può essere complicato renderle tra loro compatibili il resto di questa presentazione che poi trovate che vi rendo disponibile in modo che voi la possiate esplorare con la calma che richiede cioè è un elenco di repository dove trovate le risorse aperte perché uno degli obiettivi di oggi era capire come usarle per usarle bisogna prima di tutto trovarle come avrete capito benissimo anche attraverso gli esempi che hanno fatto Eleonora e Juliana non è sempre semplice a volte i repository sono molto verticali quindi sono ottimi partiamo da questo sono ottimi perché ci consentono di avere in un posto unico tantissime risorse aperte ricercabili quindi diciamo è come aprire una scatola e avere lì dentro le risorse organizzate magari per argomenti per licenza ricercabili per autore eccetera però il dialogo è interno a quella scatola come diceva giustamente anche Eleonora lo sforzo è capire come ricercare attraverso diverse scatole attraverso diversi silos in modo tale da fare una ricerca attraverso la rete grazie agli strumenti che ci sono e alle tecnologie che sono già disponibili che vanno affinate con questo obiettivo in modo trasversale così da fare quello che siamo abituati a fare con un motore di ricerca come Google e che però vedete che usa le licenze per ricercare attraverso le immagini per ricercare attraverso le risorse solo attraverso le immagini ci sono altri motori di ricerca trasversali che possiamo vedere bene insieme e sui quali vi invito proprio a fare dei giri partiamo da due molto famosi e che come link ma che poi vi invito davvero a esplorare e sono l'open courseware del Massachusetts Institute of Technology che esiste dal 2001 e che è nato prima che nascessero le risorse prima che nascessero le licenze Creative Commons sono loro che hanno fatto da prepista e hanno una sezione intera dedicata agli educators che vi ho anche linkato nelle slide successive che vi invito a esplorare benissimo perché Giuliana prima condivideva anche lei ed è una cosa che ho già detto anch'io e che condivido totalmente siamo sempre in fase di apprendimento giusto Giuliana siamo sempre in fase di tentativo di conoscere meglio quello che altri fanno e imparare attraverso le pratiche di altri anche in questo caso l'MIT ci offre un'opportunità attraverso l'open course di imparare attraverso le pratiche di altri educatori c'è un open course anche in Europa ed è in Olanda ed è di TU Delft è nato più tardi è nato nel 2008 l'Olanda è uno dei paesi europei più avanzati sul fronte delle open educational resources qui trovate una cattura di schermo della home page dell'MIT open course con la licenza con cui loro rilasciano i contenuti che è CC BY NCSA anche le risorse salvo dove diversamente indicato dai singoli docenti sono CC BY NCSA la sezione educators che è quella che vi invito a esplorare è piena di racconti di come sono stati progettati i percorsi educativi e quindi di pratiche aperte con risorse aperte ma anche le pratiche sono aperte in sé quindi vi invito davvero a esplorarlo come una risorsa preziosa che viene arricchita costantemente il team dell'MIT è in crescita e stanno facendo un lavoro meraviglioso con alcuni progetti sulla sostenibilità energetica qualcosa vi mostro la prossima volta questa è l'home page dell'open course RDT U DELT anche loro hanno scelto la licenza CC BY NCSA e come vi dicevo prima questa è la screen capture di quello che hanno in fondo alla pagina del sito vedete che anche loro usano la dicitura eccetto dove altrimenti indicato i contenuti del sito dell'intero sito sono licenziati con CC BY NCSA loro in questo esempio magari vi può interessare fanno anche un riuso delle OER all'interno dei loro MOOC perché hanno i MOOC sulla piattaforma edX e hanno per esempio in questo caso riorganizzato e remixato tra loro i materiali didattici creati in questo MOOC con quelli già prodotti dall'MIT sullo stesso tema creando un percorso blended per gli studenti quindi trovate qui dentro non solo materiali open risorse open in sé ma anche pratiche open descritte come tali piani d'aula esami open quindi veramente una risorsa preziosa vi ho portato anche vi invito a esplorare anche altre raccolte diciamo di risorse open gli esempi qui sono non istituzionali Merlot è interistituzionale è nato anch'esso ben prima che venissero create le licenze e raccoglie risorse da tantissime università in tutto il mondo quindi anche voi potete chiedere di essere linkati e fanno sia da repository che da meta repository cioè raccolgono risorse che si vogliono caricare su Merlot ma anche link a risorse che risiedono altrove quindi hanno cercato un modo e durante la pandemia hanno fatto un miglioramento fantastico per andare incontro anche all'esigenza di chi deve lasciare la risorsa sul proprio repository istituzionale ma vuole essere visibile altrove Openverse è il nuovo motore di ricerca che è nato dalla collaborazione tra Creative Commons e Wordpress e adesso è ospitato da Wordpress e consente dal 2021 anche qui durante la pandemia di attraversare la rete funziona benissimo per risorse a livello di immagini non ancora altrettanto bene per i video e tanto bene per i file audio per cercare le risorse Open trasversalmente nella rete e qui poi trovate gli esempi cioè le schermate con i link ci sono anche i libri di testo Open si chiamano Open Textbooks e sono libri interi manuali d'aula creati con licenze Open che ne consentono l'adattamento ci sono esperienze di adattamento fatte in collaborazione con gli studenti che sono meravigliose in cui magari si parte dal dire ok vediamo cosa succede se cambiamo i nomi dei personaggi di questo esercizio mettendo i vostri e questa è una prima attività di veramente da basso da basso coinvolgimento da basso livello anche di modifica se ci pensate ma che consente agli studenti di cominciare ad essere coinvolti in un processo in cui toccano le risorse educative che devono studiare e le rendono proprie e questo fa sì che si inneschino poi delle pratiche che possono essere ampiamente cavalcate in aula in cui si chiede un coinvolgimento sempre maggiore degli studenti nel contribuire attivamente alla co-costruzione dei materiali d'aula compresi quelli dei manuali e anche qui vi ho messo dei link ci sono anche simulazioni che sono disponibili con licenze open e qui vi ho messo due dei maggiori repository in cui ci sono addirittura intere simulazioni di fisica disponibili o di chimica in questi due casi e ci sono anche repository che si occupano di offrire altri tipi di risorse che riguardino altre aree per esempio LibreText sta facendo adesso un esperimento massivo di traduzione attraverso il machine learning e poi chiedendo a persone che sono native speaker cioè persone che parlano come prima lingua queste altre lingue di traduzione massiva appunto attraverso gli strumenti della traduzione assistita di interi repository scusatemi interi manuali e libri di testo così che siano disponibili in lingue diverse è stato fatto un esperimento massivo con la lingua coraina i testi sono tutti da rivedere ma immaginate lo spazio di ricerca e anche lo spazio di miglioramento che c'è grazie a questi primi tentativi pioneristici direi proprio esplorativi di usare gli strumenti nuovi che ci sono che hanno tutti i loro difetti ma poi andare pian piano a migliorare per dare quantomeno una prima offerta didattica in lingue che necessitano di essere di avere un approccio dedicato diciamo e cos'altro vi faccio vedere ci sono quiz quiz e metamotori di ricerca graspol è uno dei repository di quiz che è nato per l'area statistica e matematica ma che sta ampliando l'offerta anche ad altri ambiti e tutti questi quiz sono disponibili per essere poi adattati scaricati adattati con licenze open e poi ci sono dei motori di ricerca trasversali come il meson oier metafinder che interrogano contemporaneamente più repositori di oier siano essi tematici o istituzionali cosa guardiamo in un oier e poi su questo vado davvero a chiudere se noi abbiamo bisogno di capire come interrogarci sulla qualità delle oier grazie agli interventi di Juliana e di Eleonora avete visto che è un tema in discussione è un tema in discussione da tempo e che continua ad avere necessità di essere esplorato se ci stiamo riferendo alla qualità della risorsa educativa per degli obiettivi di apprendimento allora quella risorsa educativa la valutiamo con tutti i criteri che funzionano per le risorse educative in generale e quindi andiamo a vedere se è coerente con gli obiettivi didattici che abbiamo se ha un contenuto rilevante accurato ed è strutturata in una maniera in un modo tale per cui va incontro a quelli che sono per me come docente o come innovatore didattico gli obiettivi del gruppo di utenti cui mi sto riferendo anche se non è open questo è un criterio che io utilizzerei ci siamo lo stesso vale per il design come è stata costruita qual è l'approccio pedagogico applicato se ha un livello o meno di granularità ancora il suo potenziale motivazionale cioè in questa risorsa educativa guardate bene prima ancora che sia open ci sono degli esercizi è previsto che io chieda un feedback ai partecipanti o che io lo offra ai partecipanti è prevista un'interazione mi consente di un tracciamento dei progressi quindi che i partecipanti fanno rispetto agli obiettivi di apprendimento e poi anche l'accessibilità ancora prima ancora che sia open che linguaggio viene utilizzato che lingua viene utilizzata a seconda dell'utenza che ho qual è lo stile comunicativo i testi sono lunghi sono brevi sono coerenti come lunghezza con il formato della risorsa educativa che sto usando e poi però c'è anche la questione dell'open è rilasciata con una licenza open quale licenza ha è compatibile questa licenza se pensate alla matrice che avete anche solo guardato a colpo d'occhio prima con le altre risorse che voglio integrare ma anche è stata rilasciata in un formato che mi consente agilmente la modifica il pdf non mi agevola nel modificare se io devo riusare delle slide è più facile che io riusi delle slide che sono in un formato che mi consente di aprirle sia con software open che magari con software proprietari che mi offre la mia istituzione ma che mi consente di agire direttamente sulle slide non su un formato che richiede software proprietari o software che non sono nati per lavorare sulle slide quindi la facilità di riuso è una caratteristica propria delle OIR e va tenuta in debita a considerazione già nella fase in cui io inizio a progettarle se voglio che gli altri le riutilizzino per questo vorrei chiudere su questo fronte poi adesso sulle altre parti vi lascio degli spunti critici che spero abbiate voglia di prendere in considerazione che magari se volete sono quelli da cui possiamo ripartire se avete delle domande in merito anche nel prossimo incontro però vi lascio questo spunto sulla facilità di riuso perché oggi siamo concentrati sull'uso delle OIR dove trovarle che caratteristiche hanno quando le licenze ci abilitano all'uso e al riuso e quando invece ci mettono un pochino più in difficoltà però il formato il layout la struttura e l'estensione del formato di salvataggio proprio direi sono tutti aspetti che dovremmo imparare a tenere in considerazione anche quando le creiamo noi e quando la prossima volta cominciamo a occuparci del creare le OIR questo sarà un aspetto che dovremmo sicuramente tenere in considerazione gli altri aspetti che vi lascio come spunti critici sono degli spunti che partono da critiche che spesso vengono fatte alle OIR ve le ho elencate e vi ho messo anche delle possibili soluzioni vi invito a dare un'occhiata con calma e poi vi ho messo uno spunto che riguarda le catture di schermo dal web che vogliamo poter inserire nelle nostre presentazioni ed è una cosa che ho fatto anch'io qui e che quindi vedete che ho fatto nel rispetto della legge del diritto d'autore perché ho fatto catture parziali in una qualità che quindi non rende diciamo giustizia alla bellezza dell'originale e ho citato la licenza laddove la licenza fosse presente se poi voglio diffondere le slide che ho utilizzato e quindi renderle disponibili ad altri devo aver specificato insieme alla licenza che scelgo io eccetto dove altrimenti è indicato e poi indicare dove la licenza è diversa da quella che ho scelto io altrimenti anche questo è un utilizzo che potrebbe essere considerato non lecito fate conto però che chiaramente c'è tutto un tema su questo che è quando vale la pena anche per un autore o per un sito fare causa perché un utilizzo educational solitamente viene considerato tra gli utilizzi ai fini di insegnamento o di ricerca scientifica e che avviene per finalità illustrative e finché sia nell'ambito dei fini non commerciali le normative tendono a essere abbastanza sufficientemente flessibili nel prossimo incontro appunto ci occupiamo di alcuni elementi del processo di creazione e di integrazione con riuso di OIAR e di come operare una scelta consapevole della licenza andiamo proprio a vedere come si sceglie la licenza e se il processo è guidante o meno vedrete che sarà facile e anche molto pratico e quindi vediamo anche come è possibile creare OIAR insieme ai partecipanti dei propri corsi e basta direi che per oggi possiamo chiudere qui i prossimi incontri sono quelli che avete già in elenco e che spero che vi ricorderete avrete già assegnato la maggior parte di voi si è iscritto a tutti vi ringrazio tantissimo per la partecipazione ringrazio tanto Eleonora e Giuliana per essere state con noi oggi ecco se non l'avete ancora compilato vi chiederei di compilare il form se avete necessità o piacere di ricevere un attestato di partecipazione e ricordatevi di controllare la vostra email perché se la vostra email non è corretta o ha un errore di digitazione noi poi non possiamo inviarvi l'attestato grazie a tutti e grazie di cuore Eleonora e Giuliana grazie a te a presto arrivederci a tutti ciao grazie grazie a voi ciao ciao